Siamo alle Castella, proprio nel castello aragonese dove appunto Piera Bilotta mi espone le sue opere. Te lo chiedo così, che sensazioni hai a risporre nel castello di Le Castella, questa antichità proprio insomma assieme a queste tue opere che al tempo stesso diciamo che sprigionano anche un certo viaggio interno che fai. Posso diciamo che si presta tantissimo perché queste mura così rendono ancora più belle le opere. Io lo dico sempre che mi curo con l'arte perché l'arte per me è curativa, è anche una malattia in realtà perché c'è una doppia valenza. Sono contenta, orgogliosa, sono tanti termini che si potrebbero trovare ad esporre poi nella mia terra quindi figuriamoci, per me è veramente un onore. Il posto, ripeto, è bellissimo, veramente spettacolare, quindi invito veramente tutti a venire a vedere perché insieme è un connubio esplosivo. Bene, mi verrebbe da farti una domanda un po' così, ecco diciamo che osservando queste tue opere insomma mi chiedo qual è stata proprio la tua musa ispiratrice che ti ha così dato, no, che ti ha aperto a questo tipo di, a questa tecnica soprattutto ecco. In realtà non c'è, è stato un lavoro che è andato avanti piano piano, non c'è una musa ispiratrice, è vero che i soggetti sono sempre femminili per cui ci sono sempre questi volti e ci sono anche dei simboli ricorrenti legati anche al volto femminile perché secondo me insomma il volto femminile, la donna è un'espressione più completa, più nella sua dolcezza, ecco diciamo nelle sue forme così morbide, si presta molto di più. Volendo parlare al sbuconscio dell'artista, c'è qualcosa di quando eri bambina che tu adesso la stai esprimendo nei tuoi quadri? Ma di quando eri bambina in realtà non ci ho mai pensato, è una domanda che non mi sono mai posta, è più ripeto un lavoro su me stessa più che altro perché lavoro sulle mie, cerco di curarmi appunto perché attraverso l'arte, rielaboro tanti stati d'animo che magari in quel momento mi prendono mi fanno stare male, io con l'arte riesco a superarle. Vorrei ringraziare anche la Proloco che mi ha dato l'opportunità appunto di esporre in questo posto bellissimo e soprattutto le castelle, certo, soprattutto a Tonia Arena che è stata quella che mi ha supportato in tutto questo, perché è stata una cosa che è iniziata da gennaio quindi è andata avanti per un po' di mesi ed è lei che mi ha supportata, quindi le ringrazio tantissimo per questa opportunità.